Tempo di vedere quello che utilizzate come postazione per guardare le mie stream E attenzione stavolta perché le postazioni di norma siamo abituati a vedere le foto Ma in questo gentil caso io nella storia Instagram avevo scritto Mettete i video della cameretta perché è più carino Quindi tutti quelli che non hanno messo il video verranno schippati Grossissimi figli di una puttana Schippati malamente Presi anche per il culo quasi Vedi tu inizi con un bel video bravo bravo ragazzo fammi vedere Ok si niente male bella la tastiera 29 euro e 99 se non sbaglio Ok microfono colorato quello pure l'avrei comprato a 60 euro Si simpatica blu il giusto ce l'hai sopra il letto a castello E' intelligente Skip 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 fino a che non trovo un video Un video Guardali guardali non ci sono non ci sono Hanno messo solo le foto le foto Oh uomo video fammi vedere questo video Ah questo si è fatto Ok ci sono io a destra con in live in Gilberto e il nano Ci stanno i pirlas vu Questo si è fatto letteralmente la stanza Guarda ci sta pure il salottino do chiacchierà Questo dice poi ci viene a stream a Grimbaud sta attento eh Tia guarda che freschezza Bello 8 Così Per niente abituato a dare subito alti voti Inaccettabile per me dare subito un 8 E proprio non lo so Guarda tutte foto Tutte foto Ma io secondo voi perché scrivo video? Ah la tua postazione questo mi manda la foto d'incesso Anche mamma mia frate mi dispiace La switch Ma dell'orientamento sessuale tuo Sì i genitori gliel'hai già parlato Che hanno detto? Hanno accettato spero perché comunque nel 2024 stiamo Ok Tastierina colorata Sì dai Perché cazzi se li devi prendi ti prendi belli cicciotti Vergognosa Veramente brutta E poi c'è una uv girl Quindi ancora peggio Potresti essere amico di Jay Pippo Potresti essere 2 2 su 10 È una tipa Dite che è una tipa Ebbè allora va a fanculo Cioè non è che sei una donna Allora aumenta il voto eh Anzi proprio perché sei donna E non hai ancora capito in realtà di essere uomo E non hai switchato il tuo genere Allora 1 su 10 invece che 2 su 10 Frate Te la devo commentare Questo ha deciso Questo ha scritto Postazioni gaming HD E manco HD l'ha presa L'ha presa letteralmente da Boh Non lo so Ehm Un'icona di qualche sito Puttana vostra madre È incredibile Ok vedo roba di One Piece Quindi sfortunatamente non possiamo essere amici Schirivania tristissima Mamma mia proprio brutta Computer che viene parato da un'altra tastiera Di cui il cavo non solo È slegato Ma in più passa dietro Quindi poi questo cavo Se lo tiri per sbaglio Tiri tutto quanto E c'ha l'Xbox Col joystick giallo Frate Non voglio parlare Questo ragazzi C'ha lo scaldino per i piedi Viva il No 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 Mmm Non mi hai convinto Ah zì Lo scaldino dei piedi Tocco di classe Sei Ah zì Ma il monitor questo qua Ma se tiene Ma dove l'hai messo appoggiato Tra questo e questo Tra scrivania È bloccato Mezzo a un'altra scrivania Ma è terribile Sette Mi piace di più il rischio Ok si entra Scrivania normale Mi piace Frate no No zi No ma che c'hai Hanno messo uno dei tuoi genitori Agli arresti domiciliari Ma che letto è Ma è terribile Ma sembra non lo so Cioè se me lo dici sul momento Ziz Penso che mi stai a fare la Il tour della galera Ma proprio all'uno Ma poi ti stai a pompa Zano ti stai a pompa Ada Wong vedo Ottima scelta Berpici Eh non l'avevo visto Ah porca troia Zero Zero su dieci Sì nella sedia Chicago sopra Ok Ma te direi pure bella Se non fosse per sta luce gialla Frate ma perché Ma che è Dove stai Springfield Che schifo porco dio Ma che cazzo di scureggi e tiri Nucleari Cioè tutto bello Ma luce gialla da Nike Frate te prego no Ma coloralo Ok poster di Nitro Poster di Ami Schilla Poster di Gohan Super Saiyan 2 Accanto al poster di Ami Schilla Pezzo di merda Collezione infinita di manga Ti piace Spider-Man Quindi ti piace il cazzo Ok Goku Super Saiyan 1 Gogetta Super Saiyan 4 Ok Frate Adesso Che hai fatto il video E tutto quanto Puoi rimettere tutte le Le statuine waifu Con le zine di fuori Al loro posto Ok Computer portatile E con troppe robe collegate Rispetto a quelle che può reggere E si parte benissimo E faccio Tutto ok Come uccidere un barese pelato Con la barba e gli occhiali Che gioca a Fortnite A chat GPT Frate Eh lo sai che però Lo sai che però Luce blu E solo sto verde così gasa Mi piace Bello Molto bello questo Questo spazio Che hai dato al color verde 4 4 su 10 Tutto quanto Pieno Ma non ci posso credere Ma non ci posso credere Ma non ci posso Veramente credere Puttana la madonna Se uno si deve Incazzare poi Questo stronzo Figlio di una puttana Non ha neanche avuto La voglia di cercare Una foto decente Su internet Ha letteralmente Messo la foto Che ho trovato io Usato nelle storie E la foto Che ho usato Nelle storie Pezzo di merda Ma almeno cazzo Trovare un'altra Ma non mette la stessa Ah Uomo manga di nuovo Eccolo Va beh Passano mancare Nella collezione Di un vero Ah Vedo una tifa Mezza nuda Vedo pannelli Ok Vibing C'è tutto Tranne la postazione Da gaming Cioè Me sta a far vedere Tutta la stanza Me sta a far vedere Ah Playstation 2 Kingdom Hearts 2 Originale Pube mezze nude Qua si guarda Twitch Scardino dei piedi E anche Portatile Perché Per ricordarci a tutti Che avere una postazione Da gaming Non è cosa da poco Avere un tetto Sopra la nostra testa Non è cosa da poco Avere degli amici Non è cosa da poco Bisogna Dovremmo sempre ringraziare Ogni volta che ci svegliamo Che siamo nati così Ah Felpa Stallions Con firme Scarpe sulla scrivania Per rimanere sempre Con quell'odore Gilberto il nano a schermo È la cosa più claustrofobica Degli ultimi Cioè Tu hai il pc Sotto ai piedi Ma come cazzo Stai in scrivania Così ci arrivi Con le mani Allunghi Bene Manco male Perché Ma perché Ma basta Ragazzi Mettermi Oh Mazza Che pulizia Holy shit Fa riuscita Veramente Da google Immagini Questa Fammi Oh Questo Questo Se mi renderebbe In 10 su 10 Solamente per avere Crab game Specifico anche qui Controller xbox Solo per giocare Al pc Mmm Si è pure Erdirdo Magari non cesarti Sopra Dai Gioco De dragon ball Ok Stai a giocare Sulla nostalgia Stai a fare un po' Il furbetto Bella fica Ti faccio i miei complimenti Ma non ti devi preoccupare Perché è un xbox 360 Lì c'è del rispetto Voto più 1 E ti dirò di più Voto più 2 Perché vedo un qualcosa Di dolly noir qui Però non si vede un cazzo Eh io non mi posso Spandere Non posso andare più di Oltre un 3 Anzi Anzi Amore che mi hai fatto Vedere sto coso Cioè Tu non c'hai Il controller Da 360 Però poi ti prendi Il computer Che sembra Un frigorifero Come la one Zero su 10 Mi dispiace Scelgo te Mi sembri un po' Un casinato Però Ok Mi fai vedere Che mi fai vedere La scrive Mamma mia Frate ma che è Ragazzi Ma che è Lo Kingo 10 Porco Dio Ah si Ma quanti cazzo De Joystick Ha rotto Ah frate ma Sembrano i Bionigols Qualcosa è andato Storto Nella cantina Di Alessandro Alessandro Ha fatto un calcolo Probabilmente Con il suo nonno Discalculo Dove Questa cosa Avrebbe Non si sa come Retto Tutto il resto Di quello Che si posava Sul nulla Quindi qui C'era una leva Che faceva Leva sul nulla Beh Signori Io non so Chi abbia deciso Di fare questo lavoro Ma veramente In ritardo Si Lo danno in pillole Ormai Ok Parte dalla statuetta Mi piace Bello Ok Laureato Meno 2 voti Magistrato Suoni musica Più un voto Il maestro Come cosa Meno 3 voti Perché ne esiste solo uno Pulizia Ottima 4 4 4 4 su 10 Al momento Il più forte 22.51 E se non mi dai 10 miglia Banni per sempre 22.51 Se non mi dai 10 Mi banni per sempre Va benissimo 1 2 3 4 5 schermi 5 schermi Sacchetto Per buttare la roba Ok Per compensare il fatto Che non riesci più A avere un'erezione Interessante Microfono ben messo Costruito bene Alexa cosa Il bro sta dentro Cyberpunk Ah Gioca Fra te Fra te Fra te Non solo tu hai rischiato Ma dopo aver rischiato Tu mi hai fatto vedere Che giochi a Valorant Eeeh Tocca Mi dispiace Tocca da te 10 Però Scendete un voto 9 Te devi prendere Devevi fare un voletto Ganza official Dammoglie Dammoglie 10 minuti A ganza official Dai Porca troia Zibruken Eeeh 3 pc 5 schermi E non hai mai giftato Una sub Magari Ganza official Non hai mai giftato Una sub A bagiale Asorcio Hai fede Ok Sta dentro casa di Lolo Lacustre Palese Quello è un gatto Ah si Ha vinto Vince lui Postazione con il legno Che mi piace E c'ha un gatto Vince lui Bravi Scusate 21 e 56 Se ti piace gift 5 Che cazzo Bellissima Spettacolare Wow Mi piace anche il contrasto Quello con la tastiera Molto bello Bello il muro blu dietro Fa effetto Non male O forse è questa Veramente molto bella Devo essere onesto O che sia Bagari questa Bella Di legno Elegante Mi piacciono molto Anche i monitor Sempre tenuti in verticale E mi piace molto Il computer Che sembra un frigorifero Molto molto carino O forse è questa O forse è questa Delle 21 e 56 Niente male Anche questa Joll Grazie per il sub giftato Il ragazzo si chiama Bruggi Con tante i alla fine Nel caso non vedete Le 5 giftate Fate quello che dovevate fare Grazie per l'attenzione Ciao Grazie a tutti.